Mi hanno ricordato che Gastani Frinzi is the new strizzi baldazzi. Sentito? Eh. Salve gente, io sono in Manelle V11 e siamo nel futuro. Con Gastani Frinzi. Oddio, è vero? Quando io rivedrò il mio video sarò nel futuro. Eh sì. Possiamo fare un messaggio in codice per il noi del futuro? Eh, ok. Hitler. Eh, perché tanto lo sapevo che ho finito Hitler. Sono qui su World Thunder con Jacopo Thunder, detto anche. Thunder, io... Gastani Frinzi. Bravo, vedi, strizzi baldazzi ma dagli amici più stretti. Ok, siamo qua sulle nevi di Stalingrado. Dici che questo è Stalingrado. Non so, non ho letto... Non ho letto... E non sono più abituato a giocare con gli eri, però... Guarda, c'è scritto Stalingrad nella mappa. A vedere. Eh, e allora sì. Ah, e quel... Ma scusami! E' la salì! E' la salì! Perché l'avete visto tutti anche voi dal video, e' Jacopo che ha girato contro il proiettivo. Ho sparato per primo. Eh, però non è l'antraggente, non si vedono. Ah, perché i 47 vuole andare troppo avanti, secondo me, eh. Hai un do? Do. Vieni, voi io. No, no, no. L'hanno tirato sotto... Perché sei una ballerina? Un po' herbert. O BPP. Anche. Mi piace colpire la gente, ma in realtà non li colpisce, ma li colpisce. Non si piace da morire che il tizio ha fatto zero kill di caccia, ma ti esci kill di tante una balde. E' un aeroporto, ma non è buono. Quello cattivo ha fatto 16. Poi più o più fa che si può. Quella cosa due. atti, canopare. E' un'altra... Non eyesore. Ma... Non so. Per cui così azzurro... Non so. Non so. Se neanche per fare... effettivamente l'avevo superati su un'altra parte piccola e che sono dopo il viaggio via la terra gli altri o no il mio cerchio nemico credito non è neanche troppo nemico scambio mare non basta sta contorsionando nel punto dove va bene comunque non ho fatto due kill all'altra ne ho fatte 0 altra colpivo ma non ci devo poi ho anche bombardato roberto il ministeriale devi muoversi e ricaricare l'arma fai un pc 4 ricorda cosa c'è come prima sto vedendo quota un motore in fiamme vinci vedo da lontanisti che a 14 km da me mi ricarica l'italia non sta ricaricando è morto l'italia non esiste più mi sa mi ha distrutto tutto l'equipaggio c'ho qualcuno dietro vero? si ma è sotto non pensa a te ecco ora si perchè ha sentito gli spari è un pc 51 è quello di prima non ci credo bersaglio base danneggiata è che devo bersaglio integro lei è in fiamme no perdo anche i flap capisci non lo tengo non lo tengo c'è il mezzarelli che continua a sparare è ancora vivo lei non ha più mezzala cioè non ha più mezzala è ancora vivo si e niente e adesso mi sa di no GASTANI FRINZI IS THE NEW STRIZZI BALDAZI andiamo sul B7 dove sei? andiamo sul B7 lo vedo si però ha 2 eh 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 e tiene una a testa con la F6R che non lo raggiungo che non lo raggiungo mi danno e non raggiungi bombare che non fai 620 km orari sto facendo 670 se c'è la testa ora 666 io sono 650 e anche io ora sono 650 sono 680 ok ha girato lo distruma dai e nulla e nulla e nulla gente come si chiama un kai si inizia bene quest'ultima partita discontri frontali e un'età distrutta il time un colpisce ancora scripito e un colpisce e questo è un problema e questo è un problema vabbè tipo una volta ogni mille sì però se ti capita te e 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 se sei in un ciclone di morti lo so è distruzione anche non riesco a colpire ti giuro è gente folle questa non perchè è forte ma perchè è folle perchè è chiesto tipo che mangia la forchetta con il cucchiaio faccia la propria appuntando te che vincerà e nulla e niente il suo cadavere si è vendicato bella e ciò che c'è un clip di rocket league mi metto a cantare ragazze io vivo con le parole scritti maldati un'età distrutta ma sono morto anche però ehh sto riuscendo a bombardare tutta la linea di quelli che scrive i commenti con scritto sotto spolliciate per farglielo leggere no app c no era tanto per però una volta me l'hanno scritto e fai mai la vecchia guardia io sono passato a giocare per il bene della squadra e io sono morto il bene della squadra talese e no no tira una casa matta questo si chiamava platu e dove che la porta è ecco il film che uno yacht 3 e anche un fv sta perdendo i pezzi e ma perdendo tanti pezzi ha perduto tanti pezzi sta perdendo tanti pezzi non è tettentici ha perso troppo dai riesco ancora a salire sparano ancora i miei lo vedo è niente però distrutto cinque unità di terra gente è stata una bella avventura mica tanto se jacob qualche commento io ho dito che era meglio farla coi cari strizzi valdazzi siti quindi questo era un mio video no in realtà questo video era fatto vedere il video non ci sono giochi da registrare purtroppo è una cosa triste però arriva il video arriverà è un periodo di buona ottobre novembre tornerà la cosa la roba bella si escono un po' di gioco un po' di roba perché ora tutte le cose agosto e settembre è un po' il mese brutto del gioco quindi comunque se volete consiglia qualche gioco consigliato tanto so che non lo farete se lo farete non consigliare solamente minecraft eh no perchè minecraft da solo mi annoio sapete minecraft da sola è la cosa più noiosa del mondo e ti vorrò che clic da solo no penso vabbè e con questo stirling qua vi saluto e con questo yaknove che sta atterrando perché non gli va più il motore alla prossima Gastani Frinzi is the new Strizzi Baldazzi